Einstein non ha valutato l'intervento elettromagnetico della luce, che aveva quella velocità in direzione elettrica. Ma lo calcolo e il calcolo è il secondo. L'intervento elettromagnetico unitario, come unità di spazio, come 1 m², più il tempo unitario di questo numero, risulta a meno 1 m² e uguale a 0.000692855 m². In fact, 300 o milioni di m³ ogni secondo, diviato da c, il numero che è, è 1 più il tempo in m². Questa quantità, risultata dal potere di meno 1, è il tempo unitario. E dobbiamo vedere cosa è questo numero. questo numero è l'ultimo geometrico T. Possiamo vedere in quale modo questo numero rappresenta il tempo unitario, fatto da tutto il tempo. 100 è l'unità della massa. 444.4 è il tempo di spazio in 4 dimensioni. 3 più 1. di unitario di unitario, come space, e 1 in decimale, come tempo. poi abbiamo 9 e è tutta l'energia in percento 5 in dimensione 10 risa 2 minus 4 è l'unità elettrica in sua realtà 5 in dimensione 10 risa a minus 5 è il magnetismo in sua dimensione unitaria quindi abbiamo abbiamo unitaria atomica S la realtà space e il tempo 10 risa 4 abbiamo tutta la massa in 3 dimensioni X Y Z e abbiamo unitaria di fronte di 10 risa 2 angstrom quindi il tie risa 2 minus 1 ricee il times unit plus 1 m2 di unità abbiamo unità del space atomico in fronte of the electromagnetism that is 1 point 0 0 0 6 9 22 8 5 5 till at dimension unitaria of the atom in this way in the electromagnetic front the time is obtained by the ties rise to minus 1 and is just the tie the model of the unitary system to get the time that is added to the unit of the space